Wella ragazzi, ciao a tutti le nicche e bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa Alma Anche oggi ragazzi siamo qua in compagnia del signor Midicaccio Hola gente, buonasera belli, buonasera E buonasera, allora 2 novembre, ieri ragazzi non è stato con me nell'altra serie Vabbè non l'ho voluto disturbare, era giorno festivo, ma lei cosa ha fatto il primo novembre? Ha mangiato? Ieri io cosa ho fatto? Ma tu ieri tu non lo sai come mi sono scoppiato, Nì? Aspetta Io ieri C'ho due Midicaccio io, quindi uno ce ne bastava uno Ma se io sto qua, ma se io sto qua Eh ma qua dentro ce n'è un altro Aspetta, aspetta, scendi e risalgo vai Eh vabbè Allora, praticamente ieri io mi sono fatto una mega live di 4 ore su Ark Ah è vero, me l'hanno detto, io poi vabbè ho fatto pure video live, è vero, è vero, è vero Allora niente, allora Io ieri mi sono proprio chiuso, compà, proprio chiuso ieri E vuol dire che avevi freddo? Sì, scemo Tecnicamente si potrebbe andare a dormire Tecnicamente da vendere quasi buono è il prezzo dell'insilato Si potrebbe volendo vendere un po' di insilato Però, beh sì 130.000 massimo sarebbe 150.000 Volendo possiamo anche vendere un po' di insilato Perché ne abbiamo abbastanza Tecnicamente Quindi che dici? Tu che proponi? Meglio aspettare vendolo più avanti Abbiamo tante balle Guarda, c'ho le balle e gomme Eh, c'ho tante Mi sa Era una battuta pessima Era una battuta brutta Allora Ma a me questa mappa, compà, ti sono sincero Niente, 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 niente No, 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 no Le balle non si toccano Suona male, lo so Ecco A me questa mappa mi fa paura, compà No, cioè Il discorso è Non sto a capire Se le balle sono tutte fermentate oppure no Perché qua dice E devi uscire una Sì, ma aspetta che ti esco una balla A questo punto le esco tutte e due Eh, cioè Sono veramente male Allora Esce una balla di insilato Vediamo No, tipo Questa non è fermentata C'è da impazzire Questa non è fermentata Vedi 9% Perché non me la fa vedere a me? Perché non la vedo? Niente, ragazzi Sapete una cosa? Non le vendo le balle oggi Perché Non si sta a capire Quali sono fermentati e quale no Poi va a finire che mischiamo Balle buone con balle scarse Ce l'ho tipo davanti E quindi insomma Andiamo Va bene Andiamo Va bene Niente Non si tocca Oggi Ragazzi e ragazze Non si toccano le balle Va bene L'ana L'ana già venduta Allora va bene Però io comunque ragazzi Ho messo una mod Che è uscita da un po' Nel mod hub E a proposito Signori Giants È da una settimana Che non escono mod nuove E ci stiamo chiedendo Ci stiamo chiedendo Che cosa vi è successo State bene Signori Giants Avete bisogno Non lo so Perché da un po' Sì che hanno preso Le ferie di Halloween Compa Ah sì Allora si spiega Diciamo tutto Ho capito Va bene Allora Tu l'hai sparata Compa Ma l'importante È che non fai male a nessuno Quando spari No 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 Le battute di Nick Ragazzi Sono le più brutte Sono proprio ragazzi Da solleticarsi Con i piedi sotto la scelle Ma che schifezza è Io non lo so Va bene Allora qui ho allargato la strada Che almeno Va bene Allora praticamente ragazzi Dunque Tanto in America Le mele Le fanno No? Penso Posso capire Che mi hanno detto Nick Che le banane Nella mappa Italia In una mappa italiana Non ci stavano E va bene Però penso che le mele In America Allora praticamente C'è questa mod Che mette Gli alberi di mele È vero che anche Nella North East End Mi pare Avevo delle mele Alberi di mele Ma queste Sono mele Che hanno anche L'edificio Per fare il succo di mele Quindi Una cosa in più E poi Penso che Questa mod È anche per console Mentre quell'altra Non mi ricordo Allora che dici Se metto come abbellimento Due alberelli Qua e là Ma dove però? Li ho messi proprio qua Guarda Sono belli Così c'è un po' di abbellimento Qui vicino All'ingresso del garage Ma sto coso Ci sta Allora Dentro io Ce devo mettere Soltanto l'acquetta Come sempre L'acqua Le hai messe In un punto Proprio comodo Compa Mi raccomando No ma Devi fare il contrario Maledetto No ma il fatto è che Neanche lo vedo Il trigger Quello è il problema Neanche lo vedo E da qua il trigger L'acqua è qua Ma no Ma non è complicato Non è complicato Allora tu sta La bottina La botta La botta La botta Ho lasciata la botta La bottina 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 ho lasciato il negozio Forse Non mi ricordo più Ah 960 La velocità Aspetta Aspetta Ma la botta è quella del GP Ah tu l'hai portata indietro La botta è chiamata del GPL Sì è qua Ok perfetto La vado a prendere Quella dove ho caricato il propano Sì sì esatto Ah Non ho cosa Ah Io ho capito l'ultima Il propano Io ho capito le ultime tre lettere Dico E beh certo Non ho detto Protano Il propano E vabbè Il protano Non lo so Non lo so Il protano Sarà Sarà Il protano Sarà Un Gaetano Pro Pro Prodicio Un protano Sì Brava È un pro È un protano Un bravissimo Gaetano È un tano È un tano Sarà lontano Senti ma a proposito Anche l'acqua Ma è lontano È vicina Che ne so io Dove sta qua l'acqua Tu ce l'hai C'è l'aghetto Qua cosa c'ha È qua Niente Non c'è niente Qua Non lo so Questo che cos'è Non abbiamo manco occhi Per piangere Ma scusa Non ne stanno proprio L'acqua è qua E l'acqua è nao Pighiù Che siamo in Sicilia Che non c'è acqua E qua stiamo a Ceglie Praticamente non c'è il mare Che stiamo veramente in Sicilia Che non c'è acqua Tipo Beh scherzo Più o meno In realtà Ogni tanto scorre molto lento E va bene Tranquillo Lo fanno apposta Lo fanno apposta E poi la fanno pagare E poi devi mettere un cosino Per caricar l'acqua Ecco qua scatta La mod di zio Nick Eh ma io Sì la mod mia Ce l'ho Però siccome poi la gente Dice ma Nick Ma tu non me Non mi fai mai Eh ma non c'è acqua Ragazzi Se aprite la mappa Non c'è acqua E non si vede acqua L'acqua Si prosciugò Però Ecco vedi Però la prossima volta Ti frego io Con la mia mod La prossima volta Quando farà tutta quella neve Quando farà tutta quella neve Metto la mia mod Quella La mod mia Quella che metto Ah ho trovato il laghetto Invece E dove sta il laghetto Aspetta Aspetta Vicino al 36 E forse ce n'è un altro Da un'altra parte Se no la prossima volta Ragazzi Metto la mia mod Quella che scioglie la neve E dopodiché Bam Ma sicuro che quello è un laghetto Con paio grigio Si ma Ci sono andato a guardare La telecamera Quindi Eccolo qua Si 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 C'è il laghetto C'è il laghetto Anche accanto al 31 Ci vado E' vicinissimo E pare Certo Dalla mappa Dalla mappa Diciamo non si capisce Però poi Dando un'occhiata Vabbè dai Devi farti un po' di strade Lì giù Vabbè ne abbiamo capito Io con paio Che posso fare Eh bella domanda I campi stanno bene Non me li vado a vedere Vado a trovare Vediamo come stanno Sì tecnicamente Tecnicamente Ma da che parte ci si va Sto laghetto Andiamo 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 alla guitar Quindi vabbè Per ora abbiamo speso pochi soldi Ma Sì perché insomma Abbiamo debiti Però raga Tra un po' Abbiamo i cavalli Da vendere Allora Ho trovato L'acqua Bella 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 Ci stanno Gli uccellini Che se la cantano Mi ricaccio Andando Sta meditando Non lo so No no Sto cercando Un attimo Di capire Cosa Aspetta Alfalfa No Tutto fatto Io pensavo Per un attimo Che stavo a dire Alfano Dico Stavo a parlare De politica No no Mo vado a vedere Un attimo L'altro campo Quaggiù E l'altro campo Laggiù Vediamo come stanno No ma io ci ho messo Erbicida Calce viva Fertilizzato Tecnicamente Non ci dovrebbero essere problemi Con i terreni Gli diamo acqua qui Vabbè solo uno Gli manca la calce Ma vabbè pazienza Vabbè vabbè Ma se è già stato seminato Non gliela metto È brutto Appunto Però Però l'alfalfa L'abbiamo Falciata Quindi ho detto Ma Ce la metto Quando ce la metto Se no Qua abbiamo il sorgo Tutto ok A posto I piselli Cresceranno tra tre mesi Giusto Si raccoglieranno Va bene Va bene Difatti Vedi C'è chi piace I piselli Io devo mettere patata Quanta Quanta acqua vuole Ammazza Quanta acqua vuole sto coso 20.000 Ho capito E te pareva Devo andare a farmi un altro viaggio Minimo E si perché 10.000 Stai Forse anche 30.000 vuole Va bene Io Vabbè Ma metterò il mio pozzo Raga Perché Se ci devo mettere 60.000 litri di acqua Con due alberi E Insomma Non ci basta neanche il camion E forse però Mi sa che Io penso che in questo gioco Un pochettino Esagerano con le quantità Perché Voglio dire Ma tutta quest'acqua Quando tu c'hai una botte Che si è noi Cioè 10.000 litri Un albero che vuole 30.000 litri d'acqua O nella realtà Se gli devo Penso Non lo so Io penso che Con quello che costa 30.000 litri d'acqua Non so quanto sia conveniente Nella realtà Però vabbè Qua siamo nel gioco Sicuramente le mele Valgono Anzi A proposito A proposito A proposito Io andrei a guardare Ma qui non dice niente Qua forse A mela La Apple La Apple Sì ma non c'è il prezzo di vendita Perché mi manca Manca il punto vendita Il punto vendita Non lo voglio mettere E sapete perché? Perché L'intelligentone Che ha fatto Stamod Ha deciso Che il punto vendita Costa 75.000 euro Eh? Eh Quindi Col cavolo Io do Sì Col cavolo Spendo 75.000 Non lo so Io ho letto Sul sito Che Tanto costa Punto vendita Fattoria 55.000 Questo è? Sì Mercato agricolo Questo è Ma poi è enorme Ammazza Non so se è quello Io ho letto 75 Ma poi vedo Eh? Ora ci do un occhio Devo vedere Vabbè la fabbrica Non mi importa Perché si sa La fabbrica è giusto Che deve costare Allora Produzione Quindi in teoria Dovrei avere Qui da qualche parte Apple Ok Che praticamente Ha fila No Questa è quella Originale Questo è il Come si chiama Quello dell'uva Mi pare Comunque In questo caso Qui è per le mele Allora per le mele 75.000 Ah ok Si possono fare Due prodotti C'è anche la mela Quella con il miele E lo zucchero Ovviamente Non mi interessa Perché non ho Soprattutto lo zucchero Non lo so Punto vendita Eh sì Ok 55.000 Non 75.000 Ma sempre 55.000 Caro è Ah madonna 75.000 Quello E 55.000 Quello Se ne vanno 140.000 Euro Ah così A posto No ma io Di fatti Ma io di fatti Metto in auto vendita E perché Guarda Spende 55.000 Solo per venderle Non mi conviene È bello Che non ti mette Neanche un prezzo Così almeno Tu ti fai dei conti No niente Non ti ha messo Nei prezzi Io per ora Non voglio Prendere Il Per ora Non voglio Prendere Ragazzi L'edificio Per fare Il succo d'uva Perché ovviamente Non abbiamo mica Ancora queste mele Quindi È inutile Che lo prendo adesso Con calma Corrego ragazzi Il succo di mele L'edificio Per il succo di mele No di uva Perché che ho detto Succo di mele L'uva Succo d'uva Ho detto Ho detto Ho detto succo d'uva E vabbè Non mi posso ringoglionire Un pochettino Io ti corrego Perché si fanno le serie in due Allora C'hai ragione Tu Io dico Cavolate E tu scorreggi Correggi Bravissimi Bravissimi Se vuoi puoi anche ruttare Perché tanto Una volta l'hai fatto Una volta sola È capitato Quel giorno Maledetto Non me lo posso dimenticare Quella volta lì Che il medicaccio Mi rutta in un video Dico Ma che c'ha Dico Vabbè Dico Guarda Se vuoi Se vuoi Se vuoi Se vuoi Correggiare pure Allora Oh Io ho bevuto un po' di coca cola E sapete come scende alla coca cola Subito Un automatico È una questione di natura Proprio Di fisica E c'è ragione E come la pillola La pillola scende Qualcos'altro te sale Io non prendo la pillola A me rimane sempre Bello stabile Però L'altra volta Su TikTok No Su Facebook Mi è capitato Una cosa da ridere Un meme Cioè si vedeva Si vedeva Uomo e donna Tutte e due giovani E l'uomo alla donna Gli dice Hai preso la pillola Poi si vede Questi due da vecchi E la donna gli fa L'uomo Hai preso la pillola Si sono invertite Diciamo Le cose Sì La situazione si è poi invertita In quel caso Comunque sono belli Questi alberi di mele Raga Forse forse Me li metto pure Nella Land of Italy Raga Vabbè ma si Ma tanto alla fine Le mele Puoi anche Cioè voglio dire Puoi anche Le mele in automatico Appunto Non è che l'edificio Lo devi prendere per forza Sperando che so veloci Perché vedo velocità 960 960 cicli al mese Significa che In un mese Mo venga a vedere Mo un attimino Che porto un po' d'acqua In un mese Penso un pallet Te lo farà Ad albero 960 Compile Niente Non riesco a parlare oggi La produzione Del propano Ello la stoppa È finito il mais Ah si Si Vabbè Ok Ok Perfetto Se no ti consuma propano No è impossibile Se non ci stanno Tutte e due i prodotti Non può consumare propano No è impossibile Ah funziona così Benissimo E c'è Tra l'altro che gioca a farming E ancora non ho capito Come funziona La produzione Puoi lasciarla accesa Non succede niente Cioè In teoria non cala Forse si pagano i costi Perché è accesa Ma Ma neanche te ne accorgi Perché sono costi piccoli piccoli Allora ragazzi Dunque Ora ci mettiamo però Il pozzo Perché se no Qua voglia fa avanti e indietro Quindi produzione Fabbrica L'ho messa lì Ai tempi Ho sbagliato Vabbè Comunque Il pozzo Ora il pozzo Per bellezza Ma quasi quasi Lo metto all'ingresso Della farm È bello da vedere Ma sì Allora Perfetto Che poi non so Ne Mi vada che S'è baggato Pure qua Compa Pure vicino al campo Da basket Qua Alla pallacanestro Qua Beh uno per ora Che penso che c'è Basta So 3000 litri Di acqua All'ora Ma io penso Io Allora Compa' ti dico Io con tre alberi di mele Ho attivato solo il pozzo tuo 500 Vabbè non c'è 500 all'ora Insomma Mi stai a far capire che non c'è basta Vabbè No 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 Basta e supera pure Io do l'acqua Tre alberi di mele Due fichi d'india 500 all'ora Metto Ma se sono 3000 euro Un altro lo posso pure mettere Quindi non è che è caro Ok Vedi tu dovevi pensarlo E però metterlo lì È brutto Lo metto A due cacchi lo metto Lo metto qua vicino Ah sì Tanto Che c'è Sicuramente non lo so dove lo devo mettere Vabbè vicino al silo Ho metto qua Ho metto qua Buone Ho messo da una parte lontana e via Attiva 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 Distribuzione A posto Ok Oh andiamo a dormire allora Non c'è altro da fare mi pare Vai compa' Andiamo andiamo Questa volta io dormo dentro L'altra volta mi sono raffreddato fuori Strunz Ecco perché ti sei chiuso ieri in live Bravissimo Io invece c'ho caldo È che oggi sono stato in palestra E allora Poi torno a casa Faccio la doccia Mi sento un caldo da morire Ebbè dopo la doccia è normale Tutti si sentono accaldati dopo la doccia Siamo sotto di 10 mila Come meno Eh sì ma abbiamo debiti cose Non è che è normale E meno male che ho stappato quella produzione Raga No e quello non cambiava niente Ah mi sono dimenticato di accendere queste Porca miseria Vabbè l'acqua meno male l'hanno ricevuta lo stesso Almeno quello E vabbè pazienza Allora Eeeh Corna Eeeh A proposito Di Dryad Corn Beh sono 100 mila eh Sono parecchi Scusami compa' Aspettami un attimo Ti voglio fare Voglio chiederti una cosa Visto che ti ho a tu per tu La mod del pozzo Che tu attivi 500 all'ora 1000 all'ora 1500 all'ora Si sommano Tu paghi ogni attivazione Si Quindi tu paghi tipo 1500 Eeeh 3000 6000 all'ora totale Paghi No non paghi 6000 euro l'acqua L'acqua costa Eeeh 24 Che ne so 24 Non lo so manco io Guarda Comunque quel 24 Forse moltiplicato per 500 Non ne so sicuro Forse quel 24 Per 500 Non lo so Non mi ricordo Ah ok Ok che devo capire Ok perfetto Ah no aspetta No 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 Che cacchio sto a dire No no scusa Che cacchio sto a dire Niente mi sono briagato Sotto è la scritta 240 euro al mese Più 600 Più 960 Quindi 1200 1800 Per ogni pozzo Se li accendi tutti e tre 1800 euro al giorno Ok Di acqua Ogni pozzo Se tutti e tre sono accesi Se no ovviamente Tipo 1500 all'ora Sono 960 Ok perfetto Ma ho capito Ok grazie I cicli un po' Mi hanno fatto confondere Va bene Allora dunque Da vendere che ci abbiamo Oggi Gigi Anzi oggi mi sa che c'è da trebbiare Altro che Comunque Dryad Un momento Quanto dryad corn Tengo io Ammazza È da vendere Però no aspetta Il cavolo No Dryad corn Non lo vendo Perché mi avete detto Nicchi guarda che con i dryad corn Ci fai Il Popcorn Che sicuramente Valgono di più Quindi Caspiterina Saranno un botto Le soldi A proposito Ma come è che c'ho sempre debiti Vabbè comunque Asciamo a perdere Questo discorso Che è meglio Ma popcorn Raga quanto costa la fabbrica Forse neanche tanto cara Però mo ci arriviamo Su quello Non adesso Più che altro Voglio vedere Se effettivamente I popcorn Valgono di più Allora 3000 Il mais Ok I popcorn Eh si Valgono 4,4 Valgono un po' Di pargo 1400 in più Sperando che poi I popcorn So Per dire Uno a uno Ma se non è uno a uno Va a finire Che non è conveniente Se tipo ci vogliono 5 di mais Per fare 4 Di popcorn Già il guadagno Veramente diventa Misero Ragazzi Nei commenti Se magari voi state giocando Alla alma Conviene Trasformare Il Mais Essiccato In popcorn L'avete provato Voi Fateci sapere Ok Prima che magari Compro la fabbrica Ok Quindi per ora Anche perché poi bisogna Vi pare pure i costi Della fabbrica Raga Anche si Quindi per ora Niente Non faccio un cavolo E poi E poi Andiamo a vedere Se mi ha fatto Le mele Come ho detto io Compà In un mese Ti fa un costo Ah giusto Ah Mela 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 messa Qui In un mese Che poi non è da mille Aspetta Cos Cicli mensili No In un giorno Un mese Produce Due pallet O no Sì Sì perché È 960 Di acqua Al giorno Quindi quasi mille Però tu poi ci metti Che lui da uno di acqua Fa due mele Quindi diventa 960 per due Al giorno Quindi Quindi quasi Due mila Quasi due pallet Al giorno fa Quasi due pallet E l'altro pallet Dove sta Se lo sono rubati Un pa? E l'altro pallet Non te lo fa Perché ci vuole più Di una giornata Ti ho detto Ci vogliono 25 ore Per fare due pallet Quindi è normale Che non lo vedi Ci vuole più tempo Capito? È normale Che non c'è Ok Allora Vediamo se ci abbiamo Da trebbiare Va Vediamo Forse Sì C'è da trebbiare Allora 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 Trebbiare Aspetta Quello Mi serva Ma l'alfa No Rie Segale Ah E dove L'hai messa Lì è E che mi ricordo io È lì è Ho guardato il terreno Ma dov'è la lama? La lama deve essere qua fuori La lama è là Perfetto Oh ma se Ci vado a dire Ma la lama che è piccola? Vabbè Tanto ragà Ci metterò l'operaio Poi off camera A finire il terreno Ragà Perché tanto Oh la lama è grosso La lama è piccola Sempre tempo ci vuole Quindi ci metterò l'operaio A proposito L'ho restituito Il cosone È vero Ma se Eh sì Non era mio È vero Ma lo devo comprare Prima o poi Il Devo comprare Prima o poi Il raccogli grano Quello col tubo Quello a 200.000 Quello era buonissimo Troppo utile Eh Quello costa però E con pa Ma una mappa Come questa È indispensabile Mi aiuta tantissimo Poi c'erano anche Gli operai Che ci andavano A scaricare da soli Però Due operai Erano rimbambiti Meglio uno Anche se è lento Però almeno Allora Eh sta prendendo Tu E prendi Cosa ci abbiamo Come carrello È uno di quelli Che trovi Non lo so Vedi un po' Nella lista E vedi qual è Il più capiente Fai segna Sulla mappa E se prende Quello si Quello si Ok Ma di fatti Ci metto già subito L'operaio Perché tanto Se la fa lui qua Eh Ci vuole tempo Cos'era questo Ri abbiamo detto Segale Va bene Ma questa la fa Vai Mi pare di sì E di regola è un grano Quindi dovrebbe farlo Sì Lo sai com'è Io lo chiedo Genera percorso Avanti Dal primo punto Vai No io talmente Non lo uso più Da una vita Che il course play Compà Non so manco Come cavolo Si fa più Ma guarda Non è difficile Tanto Ragazzi Voi lo vedete Mentre che gioco No Cioè Faccio quattro click E finita lì Non è che è complicato Due click Ho fatto A proposito Ma all'usato Cosa c'è di buono Eh Questo No Non mi serve Questo Questo qua Questo qui non sarebbe malaccio Per Ma che per cosa Per trasportare acqua Per trasportare quattro cavolate Insomma Raga Non lo so 23.000 euro Non è caro È pur sempre un trattore in più Anzi a proposito Effettivamente Ma quanti trattori abbiamo noi A parte Mi dica c'è Un trattore piccolo Medio No Io c'ho il Massey Ferguson Sì Quello classico 3670 Questo è buono Per fare sti lavoretti No Perché C'è un trattore A 23.000 euro Pochi cavalli Però Per fare piccoli lavoretti Poi c'è anche la possibilità Dell'aggancio frontale Mi sa che lo prendo Raga Ci mettiamo poi L'aggancio frontale Magari per preparare Razioni miste E cose così È buono È buono Mi sa che lo prendiamo Dai Mi sa che Non è che è caro Oh e poi Tanto tra poco Che i cavalli Fanno tanti di quei soldi Ma sì Ok Dai lo compro Può tornare utile In farlo E lì È un peccato È sempre buono A quel prezzo Eh oh Lo mettiamo a far qualcosa Tipo Mo' vedi Ecco mi faccio portare a casa Sti Sti palletti di semi Qua che cacchio so Ma quello è buono pure Col carrobotte Per dare l'acqua agli alberi Ad esempio Sì Anche se c'ho Vabbè il pozzo Però sì Certo O magari per mettere Il metano Nel macchinario Lì Oh ma funziona Sì 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 Ah ok Perfetto E che fa Quello deve È schifo Lo prendiamo Lo prendiamo Eh perché non funziona Madonna Forse perché è mezzo Vuoto Ah vabbè Lo lascio lì Guarda Non c'ho Sbatti Va uguale Poi tanto Quando devo venire qua Tanto quella è calceviva Quando vengo qua Vengo qua poi Allora Permesso Riparazioni E modifiche Grazie Quanti soldi ho 11.000 euro Ci bastano Ripara Configura Questo Configura A posto Così Ho un mezzo in più Per portare in giro Le cose Ciao bella Ciao pizzeria Qua Pizzeria Bella Italia Ah no 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 Pure vabbè Pure la moto Che ho creato Io l'ho chiamata Ciao bella Perché era proprio Il logo originale Che ha messo Farming Quindi Ci stanno Sti due Qua Che di Questi qua Stanno Addio Amato Cacca All'uscita Stanno Impazzendo Non so Stanno Diventa Pazzi Dove si Asci Aiuto Eh già Vabbè Allora Dunque 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 Quindi La fabbrica Per farci Il succo D'uva Con calma Con calma Perché Succo di mele Ah giusto Stavolta hai ragione Ho fatto caso Hai ragione E' Succhi E' Succhi Insomma E' Succhi di qua E' Succhi di là O' Succo di frutta Succhi di frutta Come dice il nostro Pay Allora Aspetta un attimo Cacca devo mettere un carapace No capacità di erba Ok no carapace Allora 41.000 euro I cavalli Tra poco si vendono Si recuperano i soldi E non ci sono più problemi Allora Quelli vorrebbero Un pochino di erba Anche medicaccio Di solito Me la chiede No No Sono male Io mi dissocio Ragazzi Ma che tanto Non resisto Senti ma Ce l'hai tu il cosino Ah no ce l'ho io il cosino Io sto lavorando Con l'operaia Operaia Ti stai facendo L'operaia Oh Eh si Qua non ce la fa Tira bello Tira questa salita Si Ciao ne Salta cavallo Che l'erba cresce Dove ho lasciato il coso Che cosa Ah l'ho trovato L'ho trovato E niente Te l'ho data mangiare Alle mie Le caprette Te fanno Ciao La mila Una mila A giorno Toglie il medico Di torno Quindi Se mi ricaccio Faceva il medico Me lo toglievo Dalle balle Che stronzo Che si Quindi Di rie Lo stiamo raccogliendo Al naturale Senza mod Del doppio raccolto Perché è un prodotto Che non c'è In quella lista Effettivamente Potresti non avere torto E effettivamente Mi pare che È vero Perché Sono Separati Si È vero Mi sa che Il segale Lo stiamo raccogliendo Senza doppio raccolto È vero È vero È vero Quindi a sto punto È meno conveniente Giustamente Avendo la mod Del doppio raccolto Il segale Ne ricavo la metà È giustamente Molto meno conveniente È vero Vabbè ormai Pazienza Andava fatto Giustamente Ormai Se doveva fare L'abbiamo fatto E va bene Pure i piselli La stessa cosa Raga È vero A meno che Non sistemo la mod Prima di Prima di prenderli Sti piselli Prima che tu li prendi I piselli Novellini Parliamoci Chiaro Ma Disgraziato Fetuso Te mi sei passato Sull'Alfa Alfa Chi È Chichirichi Di fantasia Chi Io Il trattore Ma no io Compa Certo Perché il trattore Va dove dice lui No dove dici te E questo qua C'è l'intelligenza artificiale Io dico Hop Hop Gadget Cammina E quello cammina Vabbè io ragazzi Vi devo dire Poddi 2 Guarda C'è chi ne è grande No No Oniché no Allora Allora Eh Salutiamo Poddi Oh Poddino Mannaggia Ciao Poddino Ogni tanto mi scrive E manda quel paese E poi basta Finisce Vabbè 65% ancora Bene Riempilo Dai Allora sarà facile Vabbè no Che te dico Che qua il tempo è volato E mi sa che me la concludo Questa Questa registrazione Ragazzi Speriamo che il gameplay Vi sia piaciuto Vi ricordo che in descrizione C'è il link Vari link Uno per comprare Questo gioco scontato E anche tanti altri La lista delle mod Che usiamo In questa serie E ovviamente Ci trovate anche Gli alberi di mele E poi vabbè La lista delle mod Che ho creato io Il canale di Mitigaccio Se non l'ho già detto E molto altro Va bene Quindi noi vi salutiamo Ci si becca Ragazzi Ciao alla prossima Ciao ragazzi Vado ubriaco Vado ubriaco Ciao 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 Ciao